Ciao ragazzi da 100% Social e benvenuti in questo nuovo video. Il Fusino è pareggia in casa contro il Pisa in una fredda domenica di inizio dicembre contro un Pisa ben messo in campo da D'Angelo che non ci ha reso le cose semplici in mezzo al campo un Pisa organizzato che veniva comunque da una stessa importante di risultati come anche noi del resto quindi una sfida interessante per questo campionato di Serie B ma come poi se si va a vedere lo storico di risultati tra Fusino e Pisa quando si affrontano nelle ultime giornate del girone d'andata e del girone di ritorno il pareggio poi è il risultato che ne esce più spesso la scorsa stagione verso la fine del campionato noi abbiamo perso però poi storicamente con il Pisa un pareggio è il risultato che esce di più e questo 0-0 poi lo conferma un Frosinone che comunque veniva da due trasferte impegnative con una distanza veramente importante Bolzano e Reggio Calabria dove sono arrivati i quattro punti si vedeva che la squadra pur cercando di esprimersi poi soprattutto nel secondo tempo ha fatto più fatica le occasioni da un po' i batti sono state veramente pochissime nel primo tempo forse la più ghiotta quella con Garritano se non mi sbaglio con il difensore del Pisa che riesce a intercettarla poco davanti la porta e nel secondo tempo una ripartenza che mette in signe davanti la porta e forse per un eccessivo altruismo tenta di servire il compagno ma sbaglia non fa né un tiro né un passaggio la palla si spegne sul fondo con una traiettoria sbagliata completamente a tu per tu con il portiere per il resto veramente attacchi non pervenuti un primo tempo dove tutto sommato avevamo spinto anche di più soprattutto sulla destra con Rodian con Insigne anche un Bologa un po' più attivo però non riusciamo a a concretizzare il Pisa ripeto ben messo in campo riesce ad arginare eventuali situazioni che potevano innescarsi ma poi alla fine non impensierisce nemmeno Turadi ma comunque riesce a districarsi bene in mezzo al campo nel secondo tempo la partita non crea sussulti si spegne piano piano verso la fine una gara un po' così senza senza pathos ecco scandita più che altro da interruzioni di gioco per falli per falli anche a volte un po' così concessi alla leggera potevano potevano essere fischiate forse un paio di situazioni nel primo tempo o comunque riviste per presunti falli di mano nell'area di rigore del Pisa però tutto sommato poi alla fine 1-0-0 che ci sta tutto e che è giusto che sia tutto sommato finita così è una sfida difficile contro un avversario in grande forma e portiamoci a casa a questo punto che comunque fa classifica continua la striscia di risultati utili consecutivi adesso ci attende un avversario veramente ostico come come il Genoa che è in un momento sì non non eccezionale però è sempre il Genoa la sfida di Marassi sarà quindi importante soprattutto per capire il gap se se c'è effettivamente tra noi e i rosso-blu che dovevano comunque ammazzare il campionato staremo insomma a vedere per questo video è tutto vi invito a schiacciare il canale a mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima dopo Genoa Frosinone ciao